Applausi, applausi, grazie a tutti voi per essere qua. Iniziamo con le premiazioni, prima la consegna dei premi, partiamo con gli esordienti, le esordienti. Buon lavoro, buon lavoro di federazione. Cassata Vivienne, veloci ragazze, veloci, veloci. Esordienti, esordienti. Quanto a me, Cassata Vivienne, e la firma mantiene Isabella De Angelis. La firma è qua, autonoma. Ottimo, così ingegniamo. Terza, Emma Colombo, i esordienti qua. Anna Bonassi, Mazzano. Anna Bonassi, quarta. Premio valore, Anna Bonassi. Lasciamo il corridoio qua, così riusciamo a far passare. Anna, 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 veloci, veloci, veloci. Chiedete permesso, Anna Bonassi. La quarta, passiamo alla quinta. Giorgia Massari. Anna, sei te? Ok, vai qua. Giorgia Massari. Pedale Casalese. Numero sei, Elisa, Sansotta, You Green. You Green, ragazzi. Oh, cioè, bel sorriso, cioè. Prendete una busta, è la firma, la firma, signorina. Andate a scuola domani e dite ai vostri compagni, ai vostri compagni, venite ancora neanche voi. La bicicletta è bellissima. Pedaliamo tutti e ci salveremo. Nina Marinini, BS Carrera. Emma Cocca, Mazzano, alla firma, Esergeti. Viola Ivernizzi, Team Serio. Bellissimo, ma a me, bellissime le firme, eh, si vede che si fruggono tanto, eh, sì, sì, proprio. Carlotta Ronchi, Valkar, Travel and Service, qualcuno è svenuto, è svenuto poi, finuno. Esordienti, allievi. Uno, Elisa Bianchi, Flaggers Love, Sportland. Elisa Bianchi, arriva, eccola. Facciamo un po' di spazio, allora. Vieni qua la firma, allievi. Adesso, con questo ti puoi fare un po', perché non mi ti cresce. Mi scherzo, eh. Elena De Laurentiis, di Federico. Elena De Laurentiis, team di Federico. Arriva, lasciate passare. Buon valore. Giulia Zambelli, Valcarra. Giulia, 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 Giulia. Eccola qua, Giulia. Eccola qua, Giulia. Eccola qua, Giulia. Eccola qua, Giulia. Qua. Vediamo le quattro. Alessia, Blocatelli, Ossanesga. Numeri, numeri, numeri. Chi è che prendeva i numeri? Dove è andato quello con la maglietta nera? Chi è che prendeva i numeri? Era qua adesso. Poi, Giulia Bianchi. B.S. Carrera. Giulia Bianchi, B.S. Carrera. B.S. Carrera, Giulia Bianchi, Eria, Giulia. Intanto, organizzazioni, vi portate le classifiche per favore, le classifiche finali. E i numerativi per le maglie regionali e provinciali. Sofia delle Fontane, Vangie, Ladies, eccola qua. Cesare, guarda, mi dai, non vanno le maglie provinciali e regionali e le classifiche per favore. Poi, Maria Aguti gioca in bici. Angelica Goncini. Angelica Goncini, Otto. Angelica, eccola qui, Angelica. Racing Team, Fanelli. Alessia Milesi. Puglione ciclistica ossaresca. Finiamo con Nicoletta Berni. Giraffe, Berciotti, Toscano. Puglione ciclistica ossaresca. Quando ci arriviamo in bicicletta, si sente nella maglia. Un'atleta brinca della notte. Aspettando la lana e il caldo. Partiamo con le previazioni. Portatemi i nominativi delle maglie regionali e provinciali e le classifiche. Grazie. La società alla primiare. Anzi, lei è la società alla primiare. Sul palco. Un attimo di attenzione, per favore. Stefano Pedrinazzi, presidente regionale Lombardia. L'allarme, Lino. Stefano, accomodatevi sul palco, per favore. Eccolo che arriva. Mochetti, Flavio, vicepresidente. Mochetti, Flavio. E vai via. Vieni, allora chiamiamo Lucia Trevisan, consigliera del comitato regionale. Federazione. Vieni, vieni, Lucia. Rossetti Massimo, presidente del comitato provinciale. Salite, salite pure sul palco. Il presidente della Loretta e Cepino, Mario Battaglia. Vieni, Mario. Giovanni Orlandi. Fattotum, insieme ai suoi collaboratori. Vieni, Giovanni. E poi Roberto Elefante, del Trofeo Rosa. Mettetevi qua davanti, ragazzi. Appoggia, appoggia pure di Lucia, così. Si, regge, regge. Ma ha detto che regge, ma ha detto che regge. E' certificato, eh. Mettetevi qua davanti al centro, così i fotografi possono... Roberto, chiamiamo il presidente della Loretta e Cepino, Mario Battaglia, oppure Giovanni Orlandi. Stai lì a controllare, bravo, bravo. Giovanni, Mario Battaglia. Vieni, vieni, Giovanni, vieni. Voglio sentire che lo conosco, dai, dai, forza. Mario Battaglia, dov'è? Dov'è Mario? Eccola qua, Mario, benissimo. Allora, facciamo l'applauso pubblico le nostre presenze del comitato. Partiamo dal presidente, prego. Attenzione, attenzione, grazie. Che dire, è un ringraziamento. È stata una gran festa, una bellissima gara, è uscita molto bene, direi. Un corso qualificato in cui sono usciti i valori importanti a livello sportivo. Come poi, il ringraziamento principale va alla società organizzatrice. Come campionato regionale siamo molto contenti per cui il prossimo appuntamento sarà l'Italia. Sarà ancora in armatia e dobbiamo iniziare ancora noi. Bravo. Grazie Stefano. Massimo. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio Leonardo Cepino per aver messo in calendario questa importante gara che oggi era valida come campionato provinciale e campionato regionale. Ringrazierà sicuramente a tutte le società intervenute oggi e a tutti i ragazzi che hanno corso e ci hanno fatto divertire. Dico un complimento, ripeto, vanno alla società che Leonardo Cepino ha preso questo impegno e secondo me ha organizzato in maniera forte via. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie Massimo Rossecchi, presidente del comitato provinciale. Lucia, consigliera, un saluto anche da parte tua, prego. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Grazie a questa bellissima organizzazione. Grazie alle ragazze perché senza le ragazze non avremmo fatto questa bellissima giornata di sport femminile. Sono state bravissime. Grazie a tutte le ragazze che sono arrivate da lontano per onorare questo troffero rosa che abbiamo fortemente voluto e che sta davvero dando grandi soddisfazioni a tutti con dei grandi successi e anche di partecipazione. Quindi grazie indubbiamente alla società, grazie agli organizzatori, grazie a tutti i volontari perché senza di loro queste gare non si fanno. quindi direi un grande applauso a tutti i volontari che oggi hanno lavorato per noi. Grazie, grazie davvero. Mario Pantaglia. Mario. Dov'è Mario? Vai, eccolo qui. Viene al presidente, vieni a guardare. Vieni a guardare. Presidente del team di partecipazione. Grazie a tutti per la partecipazione e con l'attività anche che ci ha assistito. Penso che ci sia tutto bene e vi ringrazio e mi aspetto a tutti. Grazie ancora di tutti. Grazie Mario. per averci spiegato nella tua location. Giovanni, Giovanni, un saluto anche da parte tua dopo settimane senza dormire. Prego. Sì, io voglio ringraziare tutti perché adesso fate silenzio. No, voglio ringraziare tutti, le atleti perché hanno dimostrato su questo percorso di andare forte. Adesso chiudiamo e partiamo con la premiazione perché non vedono l'ora di prendere le maglie, i premi che la società ha messo a disposizione per questa manifestazione. Ringrazio tutti i volontari che oggi 50 persone intorno per le strade che hanno reso la sicurezza al primo posto per la manifestazione. Grazie ancora e via con le premiazioni. Grazie Giovanni. Grazie. 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 Benvenuti a tutti. Leonardo è un piccolo paese ma con delle grandi associazioni. La ciclistica è una di quelle associazioni storiche di Leonardo. Sono contenta che hanno partecipato a numerosi bunti ciclistici, non so se si dice così, ma so che ci sono state più di 160 ragazze. Mi auguro che l'anno prossimo ci sia ancora questa manifestazione. Spero che vi siate divertite, nonostante il caldo e spero di rivedervi ancora una volta. Grazie sindaco. Ricordiamo, siamo in pieno palio. Venite a vedere il palio che nei prossimi giorni inizierà, quindi venite a trovarlo. Trofeo Rosa, Roberto, telegrafico per salutare le ragazze. Sì, grazie, grazie per la manifestazione di oggi. In Trofeo Rosa io porto il saluto ovviamente del Comitato Regionale Toscano e facciamo la segreteria del Trofeo Rosa e crediamo con l'ingresso nella Lombardia sia un valore aggiunto sia al Trofeo Rosa stesso che alle gare alle quali che ne fanno parte. E credo che le ragazze ci tendano e anche le società. E quindi grazie a tutti e alla prossima. Grazie alle ragazze che hanno partecipato tra le regioni, soprattutto se c'è qualcuno dell'Emilia Romagna. Ho visto qualcuno dell'Emilia Romagna. Farei un grande applauso a loro, ho visto quello che è successo. A me ci ha passato un mese, quindi siamo veramente con voi, vi sosteniamo con tutto il nostro cuore. Partiamo con le premiazioni, arrivano le classifiche, partiamo con la consegna delle maglie regionali. Arrivano le classifiche, grazie. Le campionesse regionali, esordienti 1, esordienti 2 e allievi. Dovrebbero essere scritte lì, eh? Dovrebbe esserci scritto, vediamo. La consegna delle maglie da parte del comitato regionale Lombardo, il nostro Stefano Pedrinazzi, con Lucia Tanevi-Sanna. Grazie Massimo, la categoria. Sembra fino, fate tra i fuori. Allora, esordienti, esordienti. Campionessa regionale Lombardia, Vivienne Cassata, Busto Garolfo. E tutto altro. Esordienti Femmine, primo anno. Paiusco Salsottera, un nome che è nascosto. Elisa. Elisa, Elisa Salsottera Paiusco. Il primo anno. Perfetto, ha fame di fianco un attimo. Mettiti di là, un po' più lontano. Allora, Elisa, Salsottera Paiusco, i soldi, di primo anno. un po non un attimo elisa seguite le indicazioni dei fotografi le fanno venire bellissime in fotografia state lì un attimo eccola qua elisa bianchi campionessa regionale Lombardia 2023 allora che c'è Pino bravi bravi grazie a tutti bellissime delle nostre ragazze allora chiamiamo anche le esordienti per la foto di gruppo insieme al presidente regionale e la nostra Lucia applausi ancora pubblico le campionesse regionali 2023 grazie grazie provinciali grazie 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 a tutti 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 Provinciale 2023, applausi pubblico, maglia su maglia, benissimo, benissimo, consegniamo pure i fiori, come avrete giusto per le esigenze fotografiche, complimenti Elisa, rimani qua, poi dopo facciamo fondo di gruppo, invece, campionessa provinciale di giorni 22, Emma Colombo, Hugh Green, grazie Hugh Green per la collaborazione, Tim conoscitissimo che ha collaborato insieme all'orante Cepino, quest'oggi, buon anno di Gepino, buon anno di Gepino, buon anno di Gepino, ragazze, abbiamo anche il nostro Cesare, della Hugh Green, ok, vi chiamiamo un attimo, arriviamo, con Massimo Rossetti, Presidente del Comitato Provinciale, il nostro Cesare della Hugh Green, grazie ragazzi, maglia provinciale, allievi, bianchi, eria, Giulia, campionessa provinciale 2023, PS Carrera, applausi, 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 e passiamo ai GPM, allora, i GPM esordienti, siete pronti ragazzi con la consegna dei premi? Ci siamo ragazzi? GPM esordienti, GPM esordienti, il Dorsale 69, Isabella De Angelis, applausi, applausi, GPM esordienti, il GPM, dedicato all'amico Claudietto, GPM esordienti, GPM esordienti, poi rimane un attimo a lato, e vi chiamiamo dopo insieme alle allievi, all'allievi, GPM esordienti, Isabella De Angelis, GPM esordienti, vieni un passo più avanti, un passo più avanti, Mario, Mario, mettiti di fianco, applausi, applausi, un attimo, è bella, GPM allieve, Sofia Delle Fontane, Dorsale 77, ecco qua Sofia, consigliamo la maglia, anche a lei, allieve, allieva, e qui su tutti i scambicini, ragazzi, ecco qua, guarda l'obiettivo, viene un po' più avanti un passo, ecco qua, è a pesere, pesere, sulle due assieme, sulle due assieme, Giancarlo, vai, vai, Giancarlo, vai, vai, Giancarlo, Giancarlo, guardate, guardate, 93, eh, 93 anni, Giancarlo, originale delle orate, e le fotografie, con Gino Martali, eh, bravo, mettiamoci la firma Giovanni, mettiamoci la firma, ok, dopo il CPM, trofeo rosa, e abbiamo Roberto, Roberto Roberto Roberto, elefante, ok, Lucia, Lucia, Lucia Trevis, Esamol, abbiamo Stefano, allora, trofeo rosa, esordienti, due e uno, Emma Bocca, eccolo qua, ecco qua, bravo, 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 Emma, bravo, bravo, esordienti, donne, due e le mani qua, Emma, Anna Bonassi, 3, grazie, Roberto, per la lista, esordienti, 2, esordienti, rosa rimane lì un attimo, si chiama, vieni Emma, vieni, Emma, Emma e Anna, qua qua, ragazze, ragazze qua, insieme, vieni press, fondi dei sovietti, fondi dei sovietti, applausi pubblico, applausi, donna, allieve Maria Abuti gioca in bici, eccola qua, Mary, applausi pubblico, mettiamo anche le due sordietti, dai, insieme, insieme ragazze, ecco qua, trofeo rosa, questo è un interregionale per incentivare le ragazze a avvicinarsi al mondo della ciclismo su strada e gareggiare in più tre regioni, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, anche Puglia, Toscana, Umbre, applausi, grazie, allora le più combattive, le più combattive quest'oggi, ancora lei, Elisa Salsotera, nelle esordienti, Elisa Salsotera, la più combattiva prima di premiare i tre guardi volanti, ecco qua, vieni, Elisa, e abbiamo la signora Speroni, vi ricordiamo Cesare Salsotera, fondatore e primo presidente della società cinistica allorante Tempino, venite un po' di avanti, grazie, con Giancarlo Busoni, che abbiamo detto storico, storico, rimani qua, Elisa, le allieve, sempre lei, Sofia Delle Fontane, la più combattiva, vieni Sofia, un premio anche per te, la più combattiva, non vorrei essere ragazzo, è combattiva, sta bene, ok ragazzi, attenzione, applausi, 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 grazie alla famiglia Speroni e Busoni, grazie, i traguardi volanti, passiamo i traguardi volanti, esordienti, lasciamo scendere, poi consegniamo, su questo, devo spostare l'appoggio, bene Giovanni, traguardi volanti, le prime tre esordienti, le prime tre esordienti, partiamo dalla terza, partiamo dalla terza, non partiamo dal primo passaggio, Sara Peruta, Sara Peruta, primo passaggio, traguardi volanti donne esordienti, osannata dal pubblico, il minuto più avanti, il minuto più avanti, ok, secondo, Masi Aurora, Masi Aurora, secondo passaggio, primo passaggio, eccoci, terzo passaggio, Emma Colombo, esordienti volanti, esordienti, avvicinatevi qua ragazzi, qua, perfetto, benissimo, finiamo con i traguardi, passiamo alle allieve, primo passaggio, Rebecca Fiscarelli, Rebecca Fiscarelli, primo passaggio, traguardo volante, allieve, attenzione, passaggio, vieni, vieni qua, perfetto, guardate l'obiettivo, l'applauso del pubblico, è il compleanno? Allora? Allora? Allora, non male, non male, non male, non male, secondo passaggio, Jackson, Ellis Lanzarin, sarà contenta mamma Jackson, dov'è mamma Jackson? Ellis Lanzarin, chiedi Ellis, come sei diventata grande, e nel tuo passaggio, quando ti veniva le gare della mamma, la mamma parreva, eh, andava forte, eh, davvero, terzo passaggio, Ilania Gritti, Ilania Gritti, terzo passaggio, traguardo volante, quarto passaggio, ma ti adorano, ti adorano, oh, pubblicate su TikTok dopo? pubblicate su TikTok? Chi è che ha TikTok? Chi è che ha TikTok? Chi è che ha TikTok? Nessuno, ah, la mamma, la mamma ha TikTok. Quarto passaggio, Asia By Stroki, Asia, lasciate passare, attenzione, e, eccola qui Asia, vieni un po' più avanti, con la nostra mascotte, come ti chiami, come ti chiami? Gabriel, tu Gabriel, Asia By Stroki, applausi, quinto passaggio, Giulia Casubolo, quinto passaggio, traguardo volante, Giulia, eccola qua, venite un po' più avanti, grazie, guardate le fotografie anche davanti a voi, sesto passaggio, Michelle di Paolo Antonio, Michelle Alice Testone, giusto? Alice Testone, settimo, settimo passaggio. Grazie a loro. Arriviamo alle categorie. Chiamati tutti, traguardi volanti, chiamati tutti, ok. Le categorie, partiamo dal basso, eh, partiamo dal basso, dalla decima, esordietti 1, dalla decima, eh. Un'ora che siamo qua, un'ora che siamo qua, quella è la sesta, quella è la sesta. Potevamo stare al mare? Potevamo stare al mare? So, per voi? E' un'ora per un'ora che se non andava, in questione era ilесто passaggio, ma è questo ST bzw 001, sempreCP. Valeria, vieni qua. Sì, sì, la teniamo tutte sul palco. Allora, mettiti la in fondo. Nona classificata Nicole Navazio, Busto Garolfo. Nona classificata, esordini, primo anno. Nicole Navazio. Sì, eh. Un po' più, mettiti vicino a Valeria. Ottavo posto, Elisabetta Riccianti, ciclistica portiera. Buonissimo, buonissima. Buonissima, Elisabetta. Vieni qua vicino a me, Elisabella. Allora, rimanete lì, eh. Poi, settimo posto, Isabel Di Sciuva, ciclifiorin. Isabella. Vieni qua vicino a me, Isabella. Isabella, vieni qua vicino a me così, al centro mettiamo le altre. Sesto posto, Elena Geppi, del dono eratico. Vieni qua vicino a me, Isabella, Elena, vieni qua. Poi, in quinto posto, Irene Pancheri. E' bravo, allora, ragazzi, così ci vuole. Allora, venite, venite, come puoi fare, grazie. Quarto posto, Viola Zambelli, BS Garrea. Allora, arriviamo al podio, lasciamo spazio al centro per le prime tre. Ma scende, intanto così ci stanno tutte. Allora, terza classificata, Emma, Cocca, Manzano. Brava, mamma! All'USB. Brava! Al secondo posto, Nina Marilini, BS Carrera. Brava, Nina! Brava, Nina! All'uncentro, il primo posto per Elisa Sassonora Paiusco, nella Young Ring. In prima classificata, esordieti, primo anno, applausi pubblico. Ponte avanti? Vi volete ponte avanti? Un passo avanti, ragazzi. No, e siamo troppo vicini, è peggio. L'applauso del pubblico. Applausi, applausi, guardate lo ritmo, ragazzi. Grazie per aver partecipato alla gara di oggi, grazie. Buon rientro, buon rientro. Vi ricordo che poi ci sarà, che in elevo con la prenazione delle società, delle prime classificate esordieti allievi, quindi abbiamo ancora esordieti due allievi e poi le società. esordieti, secondo anno, decimo posto Greta Bordin, cicli Fiorini, esordieti, secondo anno. Allo nono posto, Sara Peruta, Valcara, travele del service, non classificata. Sara Peruta, Francia Ragazze. Cosa stavate guardando? TikTok? Siete su TikTok, stavate qui guardando TikTok. No, è una classificata Sara. All'ottavo posto, Emma Gribaldelli, le marmotte, Loretto. All'ottavo posto, esordieti, secondo anno. Carlotta Ronchi, settimo posto, Valcara, travele del service. Qua, Carlotta, Carlotta. Il sesto posto, Viola Invernizzi, team Serio. Scirati a Carlotta. Giorgia Massari, quinto posto, penale casalese. Armoferra. Il quarto posto, di Anna Bonassi, Mazzano, ASD. Anna Bonassi. Mirianna. Il terzo posto, Emma Colombo, Ugreen. Seconda classificata, esordieti, secondo anno. Isabella De Angeli, signora ciclistica Osanesca. Prima classificata, Vivian Cassata. Busso Garolfo. Al centro. Fiorellini, Fiorellini. Grazie. No no, suってoravaare. Ehi, no. Super prima, l'ultimo. Bravo. Girate le buste. Girate le buste? Girate le buste? Sapete i nomi? I nomi delle buste, bravo? Ecco, bravo. Ti vedo prima, Giovanna. Vai, gira, gira, gira. Perfetto. Guardate l'attivo, ragazze. Applausi al pubblico. Allora chiamiamo il direttore sportivo della società Busto Garolfo, la società della prima assoluta. Busto Garolfo, come società alla previazione. Bustoni, grande. Immagina tu quante gare che ha visto, ha vissuto e soprattutto ha vissuto le evoluzioni del ciclismo su strada, l'evoluzione fino ad arrivare oggi. Avvicinatevi ragazze, avvicinatevi, avvicinatevi, eccole qua, Busto Garolfo, la società della prima assoluta, esordienti, Cesare, Cesare, e no ma è timido, Cesare è timido, è timido. Bravi applausi, guardate l'obiettivo, bravissime, il direttore sportivo della Busto Garolfo, complimenti, dai che siamo in dirittura d'arrivo ragazzi, grazie per aver aspettato fino a presto, abbiamo le allievi e la società, grazie, scendete dalla scala, allieve, allieve, decimo posto, Nicoletta Perni, Zilato, Guarciotti, Toscano, decima classificata, categoria allieve, non è che ce la facciamo, 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 decima, la facciamo, mettiti là in fondo, grazie, il nono posto, Alessia Minesi, periode ciclistica ossanesca, mettiti vicino a Nicoletta, l'ottavo posto, Angelica Coluncini, adesso il team Fanelli, anche te vicino ad Alessia, Maria Aguti, settimo posto, gioca in bici, belle le ciabatte, eh, belle, questa non me le metto anch'io, le ciabatte qua, no, quelle di spugna che vanno che ci aveva la Ferragni, eh, Maria Aguti, poi, Sofia Delle Fontane, sesta classificata, mangi, ladies, cycling team, Sofia Delle Fontane, vieni qua Sofia, consigliate anche il sacchetto, girate, girate il sacchetto con il nome della sposta davanti, grazie, Enia Giulia Bianchi, il quinto posto, B.S. Carrera, vicino a Sofia, poi Alessia Locatelli, quarto posto, unione ciclistica ossanesca, quarta classificata, allieve, arriviamo, di qua, di qua, di qua Alessia, adesso è di qua, il terzo posto di Giulia Zambelli, Valcar Camera e Service, sentiti qua, il secondo posto, di Elena De Laurentiis, team di Federico, Elena, tutti di qua, al centro, un applauso per Elisa Bianchi, Flaggers Love, Sportland, ci siamo tutte, eccole le nostre allieve, le prime dieci, classificate l'applauso pubblico, applausi, grazie, chiudiamo le impreviazioni con il trofeo alla società della prima assoluta allieve, Flanders Love, Sportland, l'impedio comune di Donate Cepino, 39esima edizione, il direttore sportivo, sempre con il nostro Giulio Soni, la nuova generazione del ciclismo, è un po' di qua, è un po' di qua, può essere un'altra parte, guarda, eccolo qua, eccolo qua, Flanders Love, Sportland, consegno pure il premio, applausi pubblico, grazie a tutti voi per la partecipazione, c'era, 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 io la calca, per il premio del trofeo comune di Donate Cepino, grazie, buon appetito, buon rientro, grazie per la partecipazione, e adesso, tutti i componenti del team, Donate Cepino e Young Green, tutti qua sul palco, per la foto finale, forza ragazzi, tutti quelli che hanno dato una mano, avvicinatevi, avvicinatevi, Donate Cepino, Young Green, i nostri collaboratori, chi ha sbandierato, chi ha telefonato, chi ha appeso i cartelli, chi ha rotto le scatole, chi ha fatto comaggiare, chi ha fatto le torte, chi, che ne so, quello che volete, i collaboratori, avvicinatevi, avvicinatevi, mi sembra la nostra sindaca, venga, sindaca, tutti a vedere il palio di Donate, nei prossimi giorni, iniziamo il 16 di giugno, ragazzi, uno dei pali più importanti, della zona, non come da noi, che l'hanno tolto proprio, nessuno non c'è la partecipazione proprio, chi manca, chi manca, Young Green, dai, forza, su ragazzi, forza, Donate Cepino, Young Green, possibile, erano in 50 in giro, scusa, eravate in 50, ragazzi, grazie, 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 ragazzi, ragazze, ovviamente, Ciao, bravissime, grazie, ragazzi, 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 rag Grazie, grazie a tutti voi. Buon rietto! Ciao, ciao! Ciao! Ecco la gente! Ciao! 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 Scusa! Oh, Nessia! Scusa! Nessia! Amore della mia vita! Ciao! Ma non è visto un video! Ovvio, parecchio! Non è visto un video! Scusa! 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 Scusa!